Allora vi voglio parlare di un po' di questo film che mi ha inviato Digit Movies che è Saint Ange, la regia è di Pascal Laget, regista di Martyrs, il più famoso, ma anche dei bambini di Cold Rock, ma anche di La Casa delle Bambole, Haka, Ghostland. Questo è il suo primo film, bella questa edizione, non so se esista un'edizione Blu-ray, credo di no, quindi questa potrebbe essere la prima edizione Blu-ray, credo, corrigetemi se sbaglio. È un film di case infestate, è un film di fantasmi? Sì, cioè nel senso, questo è il tema, poi scoprirete se è così o non è così. Vediamoci il trailer. Ridendo e scherzando questo film c'ha vent'anni, eh? Ridendo e scherzando, cioè la qualità dei trailer di questi film è... non lo so. Che sottotitoli sono? Ma ti prego, ve li traduco io. Insomma, c'è questa ragazza, che è una sorta di donna delle pulizie, che ha avuto una vita... ha avuto una vita un po' complicata anche lei, che va a lavorare in questo orfanotrofio. Però vedete, è già tutto vuoto, perché all'inizio i bambini vanno via da questo... tutti i bambini vengono presi e portati via dall'orfanotrofio, perché è morto un bambino? È morto un bambino e, insomma, sono finiti nei cazzi questi, fondamentalmente. E quindi l'orfanotrofio chiude fondamentalmente. Quindi lei arriva e l'orfanotrofio chiude, però rimane lì. Ci sono altre persone, c'è la direttrice, c'è un'altra donna, delle pulizie, del tuttofare. Questa ragazza, Anna, non solo ha un... è anche incinta. È anche incinta, ma lo vuole nascondere. Arriva qua e scopre che ci sono delle presenze. Scopre che ci sono delle presenze e si inizia una sorta di investigazione. È un film investigativo, fondamentalmente. È un film di fantasmi o di case infestate, insomma, dove c'è un mistero e dove lei diventa una sorta di investigatrice. Insomma, cerca indizi, scopre indizi. È un film quindi che si può paragonare fondamentalmente al mondo The Conjuring, ma anche al mondo di The Others o di degli invasati o di suspense. Infatti Pascal Hagee poi, in un'intervista lo dice anche, lui in realtà si ispira appunto a questi grandi film, no? Come The Others. Io l'ho detto, The Others è un film di fantasmi fatto bene. È un film di case infestate fatto bene. Infatti lui non si ispira assolutamente a altri film. Si ispira a questo, agli invasati, a suspense, ma ha un suo stile. Ha proprio tutto un suo stile. E già, secondo me, in questo film si vede che è il suo primo film lungo. Adesso vi dico anche come ci è arrivato a fare questo film. Era molto giovane quando l'ha fatto, adesso non saprei dirvi l'età, però ho visto proprio le immagini del backstage, è proprio veramente molto molto giovane. E la Hagee, prima di fare questo film, è andato a fare praticamente l'aiutante, quindi ha potuto stare sul set del film Il Patto coi lupi. Il Patto dei lupi, scusate. Ha fatto l'assistente, insomma, su questo set, che è un set di una grossa produzione, francese, e lì si è fatto le ossa. Ha visto come ci si muove, come si muove il regista, come ci si muove su una grande produzione, al che ha convinto un produttore amico suo a fargli fare Sant'Ange, che era un cortometraggio, l'ha trasformato in un film, l'ha scritto e l'ha diretto. Il film è un po' lento, è un bel po' lento, è molto molto lento la prima parte. La parte centrale è la più lenta, ed è un po' un peccato, perché il film è un bel film, comunque, con una bella storia, che ovviamente non vi sto a spiegare nei dettagli, perché sennò ve la rovino, dove già vediamo una grandissima capacità di regia, ma veramente qualcosa di fenomenale, qualcosa di fenomenale, perché è già un film che è un piccolo gioiello, movimento, movimenti di macchina, inquadrature molto belle, molto belle per la composizione proprio, bellissimi movimenti di macchina che seguono, creano questo senso di avanzamento, seguono i protagonisti all'interno di questo grande orfanotrofio, ormai vuoto, quindi queste stanze vuote danno anche molta possibilità al regista di creare scene molto belle, dove la protagonista cammina ed entra in grossi saloni per correre lunghi corridoi, ci sono bagni tipici degli orfanotrofi, quindi con tantissimi sanitari, molto ampi, quindi non sono bagni come quelli delle scuole, sono bagni comuni, stanze, dormitori con tanti letti, quindi è un film che visivamente dà la possibilità di creare bellissimi movimenti di macchina, bellissime inquadrature, geometrie e composizioni fighe. L'attrice che interpreta il film è, vabbè, brava, ma anche di una Virginie Ledoyenne, spero di averlo letto bene, di una bellezza astronomica, insomma lui il regista ha voluto in qualche maniera ispirarsi a quel tipo di film italiano horror che può essere fenomena, cioè dove c'è questa eroina femminile molto bella, molto graziosa, molto giovane, quindi si ispira al cinema italiano, appunto, come abbiamo detto anche prima, ci sono registi di oggi che hanno loro credibilità, che partono proprio dal cinema italiano, dal cinema di Italia Argento, quindi lui parte dal cinema di Italia Argento, Bava, eccetera, quindi è un po', semplicemente forse, ecco, questo film ha un po' il problema della durata che è è troppo lunga per ciò che viene raccontato e forse il regista ha peccato un po' nell'incapacità di tagliare via il troppo ed è veramente molto molto pesante la parte centrale, ma appunto è talmente bello visivamente recitato bene, eccetera, che si va avanti. La parte finale, dove comunque si sveleranno alcune cose, è più interessante, è molto lager, è molto lager perché svela ed è anche abbastanza esplicito quando svela, come quando in Martyrs vi fa vedere la donna completamente scuoiata, è molto esplicito, non è che te lo lascia intendere, no, te lo sbatte in faccia. E anche qua la verità te la sbatte in faccia in modo molto esplicito, rischiando molto di scadere nel trash, quindi è un gioco pericoloso, ma che il bravo regista sa fare senza cadere dentro al trash, quindi rimanendo sempre sul filo di questa cosa qua, quindi dimostra, dimostra grazie a Sant'Ange di avere le qualità, infatti poi ha fatto anche altri film. Non ha una produzione molto serrata di film, è un regista che si prende i suoi tempi. Non ho apprezzato tantissimo che il film sia recitato in inglese, avrei preferito un film francese, un film francese recitato in francese, perché comunque l'inglese in bocca a questi attori francesi non l'ho trovato tanto... le ha messi in difficoltà, secondo me. Cioè se la sono cavata, se la sono cavata egregiamente, il risultato è ottimo, ma secondo me avrebbero dato molto di più recitando nella loro lingua e avrebbe funzionato di più tutto il film. Per me non è un film estremamente significativo per il cinema, ma estremamente significativo per Pascal Lagé, per scoprire che c'è un talento, che lui è un talento. Per me lo ha dimostrato già nei bambini di Cold Rock in modo più concreto, con una storia ancora più coraggiosa, con una maturità dei tempi superiore, perché i bambini di Cold Rock viaggia spedito, non ha tempi morti, forse proprio appena appena, ma già molto meno di Saint-Ange. È un film diverso, quindi chiaramente può non piacere come gusti, come tematiche, come è raccontato, ma secondo me è raccontato molto bene nei bambini di Cold Rock. Anche quello è un film che a un certo punto lui svela, lui svela sempre nei suoi film, lui in Martins, nei bambini di Cold Rock, c'è sempre il momento in cui svela ed è il momento in cui rischia tutto, rischia di essere trash, come può essere un altro regista e dico non voglio fare il nome, ma lo farò. Ecco, per fare un parallelo, i film del Conjury Universe, quando svelano, cascano e fanno tonfo incredibile, secondo me sono molto più rozzi, molto più rozzi, molto più rozzi. Comunque è ingiusto fare troppi paragoni, quindi mi fermo qua, non voglio essere troppo, accanirmi troppo. Diciamo che però i bambini, finisco per dire che anche Martins e Ghostland, la casa delle bambole, chiamato in Italia, sono film che hanno, si tirano dietro tutto un percorso di crescita di Pascal Lager, che si vede, che se te li guardi in fila, veramente si vede un grande percorso di crescita che dimostra l'incompetenza totale dell'utente medio che guarda il cinema, perché la casa delle bambole, a livello di cinema, di scrittura, è più complesso e più bello di Martins. Semplicemente Martins è un film che tocca tematiche molto più profonde, che toccano molto più l'immaginario della società. Stiamo parlando di al di là, di morte, di Dio, e quindi è chiaramente un film più sentito. Ma se non capisci che questi quattro film sono esattamente nella posizione in cui si devono stare, perché Ghostland, cioè la casa delle bambole, è un film che mostra una maturità superiore a livello di regia rispetto a Martins, secondo me, di scrittura, di regia, di tantissime cose, è molto più concreto, è un'altra storia. Può essere meno interessante per alcune persone come storia, sicuramente io stesso confermo che Martins ha una storia che tocca molto di più, ma quando ho visto la casa delle bambole mi sono reso conto di quanto fosse migliorato nella concretezza, nella suspense, nella gestione di tutti i tempi del film. Quindi, insomma, veramente un ottimo regista, che sicuramente non è che stiamo parlando di chissà quale genio, però veramente un regista al di sopra della media da tenere d'occhio. Cioè, ecco, questo è un regista per cui bisogna avere l'hype se esce un quinto film. E che cazzo fa l'uscire un quinto film, per favore, perché lo stiamo aspettando. Lui, da quello che dice IMDb, si sta dedicando a una serie tv che si chiama Day We're Ten, di cui ha diretto sei episodi, quindi, non so, spero che riprenda. Magari questo è più per fare cassa, insomma. È giusto anche che, insomma, si mantengano certi registi. Il film, l'edizione è stupenda, cioè, è proprio bella. Mi piace un sacco la scelta del Blu-ray 15 mm, l'amarae del Blu-ray 15 mm. Gli dà un non so che di importanza rispetto a quello più slim. Copertine, penso sempre di Giorgio Credaro, a volte più fotografiche, e in questo caso, ottime scelte eleganti, fighe, e anche inquietantelle. Bellissimo il bambino, disegnato sopra così. Non so se siano presi, o idee sue, o siano compositing, fatti con elementi che esistevano già. Comunque, il risultato finale è fighissimo. Negli extra trovate le interviste, trailer, e dietro le quinte è molto bello. L'ho guardato, e mi è stato utile per capire un po' meglio il personaggio che avevo di fronte. Assolutamente uno di quei film che rientra nel genere case infestate, presenze, entità, chiamatelo come volete, sono un po' vago perché non voglio spoilerarvi troppo, assolutamente rientra nella categoria è meglio del congiù. È meglio del congiù è una nuova categoria che ho inventato io per buttare un po' di acqua fredda su questo entusiasmo per il congiù in universe, ma credo ormai di esserci riuscito. Ciao Davide Dallacosta, grazie mille per tutto, anche per i Patreon sempre, e per essere stato con me, tra un po' stacco anch'io, quindi non ti perderai molto. Grazie mille, ci vediamo alla prossima live. Ringrazio tutti quanti, quelli che partecipano alle live, vi ricordo che potete abbonarvi al canale Comprime gratis, oppure con una piccola spesa di praticamente tre caffè al mese che potete offrirmi per questo fantastico lavoro che vi assicuro non è proprio light, non è proprio light, è divertente, non ne posso più fare a meno, mi piace stare qua con voi a parlarvi di cinema, però insomma, partecipate. questo è tutto per la recensione di Sant'Ange, lo dico per chi è iscritto al canale YouTube, lasciate un commento qua se il film vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ma soprattutto seguitemi su Twitch, dove ci divertiamo un casino, ci arrabbiamo, ci divertiamo, ridiamo, è proprio, cioè, è una specie di metaverso bellissimo, dove è veramente l'argomento più figo di tutti, cioè l'horror, viene trattato in tutte le sue forme, e dove si litiga, si fa di tutto, veramente, cioè, credo anche di aver pianto qualche volta, qualche volta mi sono commosso, perché è proprio, è la mia vita, cioè, non c'è niente di finto, l'ho sempre detto, questa è casa mia, questo sono io, questo è il mio cappello, questi miei occhiali, veri, non sono detto, non è detto finto, questi sono i veri film che recensisco,